Dopo aver lanciato Oppo Reno e Oppo Reno 10 per Zoom, l'azienda ha deciso di provare a mettere sul mercato anche un altro prodotto dedicato a una fascia un po' più bassa, quindi che sia accessibile un po' a tutte le tasche. Per questo motivo, qui tra le mie mani, abbiamo Oppo Reno Z. Posteriormente è veramente molto simile, anzi devo dire che è identico agli altri due fratelloni, ma frontalmente c'è una differenza e non solo, anche al suo interno. Quindi non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo a scoprire cosa differisce e approfondiamo tutti gli aspetti dopo la sigla. Partiamo subito dal design perché posteriormente lo smartphone è praticamente identico ai suoi fratelli maggiori, con l'unica differenza che abbiamo una back cover in vetro che è allo stesso modo veramente molto elegante, non manca poi low dot che consente di proteggere la fotocamera quando il dispositivo viene poggiato su una superficie piana. Ovviamente, vista la differenza di prezzo, si doveva risparmiare su qualcosina, infatti non abbiamo la pop-up camera a pinna di squalo, ma abbiamo un semplice notch a goccia, come abbiamo già visto su altri dispositivi Oppo e come abbiamo già visto anche su OnePlus. Nonostante ciò, lo smartphone è incredibilmente elegante in qualsiasi caso, infatti posteriormente abbiamo del vetro Corning Gorilla Glass 5 con una curvatura 3D lungo i bordi. Lo smartphone misura 157.3 x 74.9 x 9.1 mm di spessore, è leggermente più grosso rispetto al Reno tradizionale, però devo dire che tutto sommato si tiene discretamente in mano. Il vetro potrebbe farlo scivolare un po' dalle vostre mani, infatti è consigliabile utilizzare una back cover come quella fornita appunto in dotazione. Mentre per quanto riguarda il frame laterale, questo è realizzato in policarbonato, nonostante sia veramente molto rigido e veramente ben fatto, tanto da sembrare appunto alluminio. A bordo dell'Oppo Reno Z troviamo un pannello AMOLED da 6.4 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+, e il rapporto 19.5 x 9.0. Lo schermo è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5, proprio come la parte posteriore. Infine è presente anche il lettore di impronte digitali sotto al display, davvero molto affidabile e fulmino nello sblocco. Il pannello restituisce dei colori fedeli con il giusto grado di saturazione, salvo qualche tonalità un pochino più impressionante. Buoni gli angoli di visuale, il livello di luminosità e di neri, trattandosi appunto di una soluzione AMOLED. La presenza del noccio a goccia rispetto a una pop-up camera ovviamente si fa notare maggiormente, ma non sarà di intralcio o almeno non lo sarà particolarmente durante la fruizione di contenuti multimediali. Presente infine la possibilità di dare i colori a proprio piacimento e possiamo attivare anche l'always on display. Passando ora all'hardware, rispetto ai suoi fratelli maggiori, non abbiamo un chipset Qualcomm, bensì un Mediatek Edo P90, quindi una soluzione octa-core con frequenza di clock massima di 2.2 GHz e il tutto è supportato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Entriamo immediatamente nel vivo, questo chipset si sposa alla perfezione con il resto delle caratteristiche, facendo emergere un buon medio di gamma con prestazioni soddisfacenti. Il sistema è abbastanza scattante anche se ogni tanto abbiamo un leggerissimo ritardo nell'apertura o nella chiusura di applicazioni, specialmente se queste non sono presenti già in background. Nonostante ciò non sono presenti rallentamenti evidenti, freeze, riavvi casuali e altre cose di questo tipo insomma. Concludiamo infine con la GPU IMG PowerVR GM9446 che vi consentirà di giocare ai titoli più blasonati senza troppi sforzi. Ovviamente sia chiaro che questo non è uno smartphone da gaming, ma comunque sa il fatto suo, offrendo tre differenti sistemi di dissipazione del calore, ovvero tre strati di grafite, gel termico e un sistema di raffreddamento passivo con pipetta di rame. Comunque di default lui esegue i giochi più pesanti come ad esempio PUBG oppure Asphalt a dettagli medi e in caso questi vengano impostati al massimo lo smartphone farà leggermente più fatica e tenderà a surriscaldarsi leggermente. Mentre con giochi più semplici come Brawl Stars non abbiamo riscontrato alcun tipo di problema nemmeno con lunghe sessioni di gaming. Parlando invece del software, questo ormai lo conosciamo già molto bene perché parliamo della ColorOS 6 basata su Android 9 Pie con patch di sicurezza aggiornata al mese di giugno 2019. Come sempre troviamo un'interfaccia molto personalizzata, con questa nuova versione abbiamo un nuovo look grazie ad un'interfaccia più fresca, nuove icone ed animazioni. Abbiamo inoltre delle modalità apposite per il gaming come per esempio l'Hyper Boost 2.0 che ci consente di ottimizzare i giochi grazie ad una miglior gestione dei processi in background. Abbiamo anche il Gaming Assistant che si occupa della gestione delle notifiche e il Game Space che è un software che si occupa di raccogliere i titoli installati sul device in modo da accedere più rapidamente alle impostazioni di ognuno di esse. Per il resto abbiamo le solite personalizzazioni relative alle gesture di sistema, quelle relative al display o ancora ai temi, sfondi e così via. Ma adesso è ora di parlare del comparto fotografico perché abbiamo una dual camera con sensore principale Sony IMX586 da 48 megapixel con apertura f1.7 accompagnato da un modulo secondario da 5 megapixel dedicato alla profondità di campo. Si tratta di un pacchetto più che sufficiente per un dispositivo di questa fascia in grado di ristituire dei buoni scatti con tanto di riconoscimento delle scene tramite intelligenza artificiale. Nelle immagini con effetto bokeh il sensore è in grado di scontornare i greggiamenti soggetti in primo piano mentre la qualità generale delle foto soddisfa non poco nelle situazioni ben illuminate. Si nota qualche imperfezione ed alcuni difetti di sovraesposizione ma le immagini presentano colori fedeli ed un buon livello di dettaglio. Inoltre pur non avendo una lente macro alcuni scatti ravvicinati hanno riportato dei risultati davvero appaganti. Di notte la situazione ovviamente va a peggiorare leggermente ma è qui che entra in gioco la Ultra Night Mode 2.0 dedicata appunto a questo tipo di scatti. Non aspettatevi miracoli avrete ovviamente bisogno di una mano molto ferma ma nel complesso questa migliora di gran lunga le foto in notturna. Frontalmente abbiamo una fotocamera da 32 megapixel con apertura f2.0 parliamo di un buon modulo per l'ambito social con foto diurne ben equilibrate anche se la gestione delle luci non sempre è impeccabile mentre di sera i risultati calano inevitabilmente con immagini leggermente passose. Per quanto riguarda i video invece possiamo registrare fino in 4K a 30 fps e in Full HD a 60 fps. I video sono ben fatti in termini di qualità e colori ma lasciano desiderare in quanto a stabilizzazione. Ovviamente non possiamo non parlare del comparto connettività e qualità audio perché abbiamo un Dual SIM LTE e l'audio in chiamata risulta avere un audio abbastanza elevato mentre non abbiamo riscontrato problemi per quanto riguarda la ricezione. Il pacchetto connettività offre il Wi-Fi Dual Band e il Bluetooth 5.0 nessun problema nemmeno per quanto riguarda la navigazione tramite GPS, GPS GLONASS e Galileo sia in auto che a piedi. Presente infine anche l'NFC. L'audio è buono sia in cuffia cablata che tramite soluzioni wireless. Per quanto riguarda questo aspetto l'azienda ha optato per una configurazione a doppio speaker con un altoparlante posto lungo il bordo inferiore e uno superiore. Quindi l'audio esce anche dalla capsula auricolare. È un po' scomodo quando si tiene in mano il dispositivo perché magari bisogna stare attenti a non tapparlo con il mignolo ma per il resto l'audio mi ha soddisfatto grazie ad un buon bilanciamento e un discreto volume. Concludiamo dunque con l'autonomia perché questo Oppo Reno Z possiede una batteria da 4035 mAh che ci consente di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Inoltre se usato in maniera meno stressante possiamo arrivare anche ad una giornata e mezza. Purtroppo Oppo ancora non integra la funzione di monitoraggio delle ore di display attivo nella ColorOS, speriamo che questa venga inserita al più presto però devo dire che nonostante tutto il tempo di utilizzo è stato di una giornata o una giornata e mezzo in caso non abbia utilizzato in maniera incessante lo smartphone. La ricarica dallo 0 al 100% avviene in meno di 1 ora e 30 minuti grazie alla ricarica proprietaria VOC 3.0 a 20 Watt con il caricabatterie ovviamente fornito in dotazione. Nonostante tutto quindi Oppo Reno Z è un buonissimo smartphone nonostante molti di voi potessero avere dei dubbi per quanto riguarda il comparto hardware il processore Mediatek non va ad inficiare nelle prestazioni generali e devo dire che sono rimasto soddisfatto. L'unico difetto che possiamo imputargli potrebbe essere quello relativo al prezzo perché è disponibile di listino a 349€ una cifra un po' alta e soprattutto è simile allo street price di Oppo Reno tradizionale quindi perché scegliere questo piuttosto che l'altro forse perché magari non ci piace la pop-up camera e questo diciamo che ci può stare però siamo fiduciosi in un calo di prezzo nelle prossime settimane come appunto lo ha subito l'Oppo Reno e come abbiamo già visto in queste ultime settimane infatti è disponibile a circa 389€ mi riferisco sempre ovviamente all'Oppo Reno quindi non disperate il prezzo scenderà sicuramente aspettiamo anche qualche aggiornamento per quanto riguarda il software e per renderlo ancora più occidentale per questo video ragazzuoli è tutto vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link alla recensione testuale il link per l'acquisto e nulla lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo smartphone comunque non disperate perché i video della Cina arriveranno prossimamente quindi mano a mano datemi il tempo di montarli ciao da Leonardo ciao da Leonardo